Siamo al Belvedere di Salleocio, proprio qui che domenica prossima, primo ottobre, si inaugura la prima biennale d'arte contemporanea del Belvedere di Salleocio, un'iniziativa questa della Web Club, in collaborazione con i comuni di Casa Giove e di Caserta. Ma non solo arte, infatti per incuriosirvi io ho invitato qui al Belvedere di Salleocio Angelo Luise dell'Orto Chef, saranno loro infatti ad organizzare il buffet che gli ospiti della biennale troveranno qui in questo splendido piazzale del Real Sito del Belvedere di Salleocio. Noi ci occupiamo della trasformazione principalmente di ortaggi della nostra zona, la famosa melanzana napoletana, il peperone nostrano e tanti altri prodotti. Il pomodoro del piennolo, il nostro prodotto di qualità della Campania e tanti altri prodotti che basta andare sulla nostra pagina Facebook, su Amazon, sul nostro sito che a breve sarà aperto a tutti. E' così data da vedere tutti i nostri prodotti nelle fasi di preparazione. Tu Angelo, insieme a tuo fratello Domenico Luise, avete pensato da un anno a questa parte di dar vita a questo Orto Chef, tra l'altro il nome lo dice proprio. Ad Aversa dove siete in modo particolare? Sì, ad Aversa siamo a Via Nunzio Pelliccia, nel cuore di Aversa. L'azienda nasce da circa un anno. Le nostre ricette sono state tramandate dalle nostre nonne e da nostra madre. Aggiungendo soprattutto la mia tecnica, essendo uno chef di cucina, abbiamo tirato fuori questo prodotto che mi sta piacendo molto alle persone. Angelo, ma io vedo questo logo sulla tua divisa che è quella della Federazione Italiana Cuochi. Sì, infatti ne faccio parte alla Federazione Italiana Cuochi Caserta, che abbiamo già partecipato ad altri eventi con loro e loro ne sono molto fieri della nostra azienda. Sempre perché trattiamo i prodotti senza aggiunta di conservanti e come si facevano una volta.